benvenuti in un nuovo video di quadricottero news oggi proviamo il dji r3 di notte vedete siamo al mare e c'è anche abbastanza vento vento costante questo è dji rc2 e adesso attivo la modalità notturna eccola vedete che differenza guardiamolo dall'app questa modalità normale e adesso clicco sulla modalità notturna ed eccoci pronti per decollare c'è anche il mavic 3 pro e quindi faremo un confronto tra i due anche perché la camera tele 3x del air 3 esattamente la stessa di quella del mavic 3 pro entrambe hanno un sensore da 1 fratto 1,3 pollici da 48 megapixel e con la stessa focale ma è tempo di decollare prima al 3 guardate che spettacolo poi è normale che la gente segnala l'avvistamento di ufo o strani luci nel cielo ed eccolo pronto con le luci lampeggianti verde come da normativa e questo è il mavic 3 pro e vediamo già subito la differenza le luci lampeggianti verdi sono sui bracci posteriori il contrario dell'air 3 che le ha davanti decolliamo alle doppie luci verticali bianche il mavic 3 pro mentre l'air 3 ne ha una sola di luce verticale bianca e tra l'altro entrambi i casi non si possono gestire manualmente per via del regolamento dice il dji pertanto luci sempre accese e luce verticale automatica quando il drone vola fuori europa si possono gestire manualmente in europa no sinceramente nel regolamento non ho trovato questa indicazione comunque questa è la situazione ed eccoci con l'air 3 questa la modalità normale non quella notturna lo screen recorder del radiocomando rc2 registra a 1080 x 720 un miglioramento rispetto all'rc1 come abbiamo visto attivando la modalità notturna da 60 fps siamo scesi a 30 fps la cosa interessante è che la modalità notturna funziona anche con la camera tele a 3x come stiamo vedendo in questo momento invece sul mavic 3 pro la modalità notturna funziona soltanto a 1x con la camera principale questo è lo zoom progressivo che ho fatto con la rotellina e questa è la seconda camera che è uguale a un sensore uguale alla camera principale sono entrambe due camere uguali e quindi c'è uniformità di ripresa tra una scena e l'altra abbiamo anche visto che per passare da una camera all'altra dobbiamo interrompere la registrazione in alto abbiamo l'autonomia di volo guardate quella quella stimata 42 minuti satelliti agganciati 25 e questo invece è il mavic 3 pro con il dji rc pro lo screen recorder è full hd quindi 1980 x 1080 abbiamo un errore di file system della scheda sd e quindi non me ne sono accorto prima del collo e allora la dovrò formattare nel frattempo questa è la modalità notturna in questo momento il mavic 3 pro sta registrando con la memoria interna di 8 giga che è uguale a quella di air 3 anche air 3 ha 8 giga devo formattare la sd card ma per farlo devo prima interrompere la registrazione perché vedete nella memoria interna ho soltanto 6,9 giga su 7,9 disponibili quindi interrompo la registrazione e formatto la scheda sd con il drone in volo la stessa cosa si può fare su air 3 è identica la procedura si attende qualche secondo e poi la formatazione come stiamo vedendo va a buon fine ho messo una piccola sd card consiglio al minimo 64 giga per questi droni meglio 128 o di più nel frattempo abbiamo visto che la modalità notturna sul mavic 3 pro funziona soltanto sulla camera principale non funziona con le altre camere e quindi per usare le altre camere devo utilizzare la modalità normale a questo punto come vedete ho le tre camere a disposizione e questo è l'air 3 con la camera principale da 24 mm quindi uno per modalità normale c'è un lampione che fa flickering perché sto registrando a 30 fps dovrei registrare a 25 o 50 fps la frequenza di rete e questa è la modalità notturna che applica dei filtri digitali riduce il rumore dell'immagine e cerca di migliorarla questa è la camera tele 3x in modalità notturna abbiamo visto che è la stessa camera del mavic 3 pro e questa è la modalità normale in questo caso la differenza si vede da notare comunque come la camera tele 3x permette di stare lontano mantenendo un'inquadratura riavvicinata in questo caso sto facendo lo zoom digitale che arriva fino a 9 per però usare la modalità normale o la modalità notturna è una scelta che dipende anche dal tipo di inquadratura che dobbiamo fare ad esempio questa è la modalità normale sempre con la camera tele 3x e devo dire che è soddisfacente per me la camera 3x assolutamente fantastica iniziamo a fare un confronto questo è l'air 3 con la camera 3x modalità normale perché il confronto lo voglio fare sempre con la stessa camera del mavic 3 pro con un'immagine simile ho cercato di mantenere la stessa prospettiva anche se non ci sono riuscito perfettamente il soggetto inquadrato è questo vediamo di finire la clip e poi andiamo con il mavic 3 pro anche lui modalità normale sempre con la camera 3x perché non si può utilizzare la modalità notturna sul mavic 3 eccolo qua il mavic 3 è leggermente più alto rispetto all'air 3 il punto di vista però possiamo apprezzare qualche differenza su entrambe le camere che le caratteristiche tecniche dicono siano uguali naturalmente sono immagini da vedere su un monitor a 4k con youtube configurato con la massima qualità altrimenti si potrebbero vedere artefatti che in realtà non sono presenti o difetti ed ecco le due clip a confronto affiancate il mavic 3 pro ha una prospettiva leggermente diversa perché l'ho pilotato leggermente più vicino e leggermente più in alto rispetto all'air 3 tuttavia dovrebbero rendere l'idea questo confronto nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto in questo modo aiuterete a crescere quadricottero news su youtube vi ringrazio in anticipo perché ormai contano i follower e non cosa viene detto nel mondo dei social e questa è la camera principale del mavic 3 pro quindi la camera 4 terzi modalità normale mentre guardiamo queste immagini vi dico che a livello di segnale la nuova banda a 5,2 gigahertz in spazi aperti è leggermente inferiore al 2.4 come portata però nettamente superiore rispetto alla 5,8 la 5,2 è utile dove ci sono tante reti wifi come nei scenari urbani ma non dobbiamo avere ostacoli tra il radiocomando e il drone altrimenti il segnale decade non è come la fcc la fcc resta tutta un'altra cosa è questo l'air 3 con la camera 24 mm 1x in modalità notturna la differenza qua si vede rispetto al mavic 3 pro con la camera principale che è la stessa che si dovrebbe vedere anche con il mavic 3 classic perché ha lo stesso sensore della camera principale del mavic 3 pro vediamo un breve confronto affiancato a volte l'air 3 è in modalità notturna e controproducente rispetto alla modalità normale purtroppo sul mavic 3 pro non ho pensato di mettere anche la modalità notturna per questo confronto eventualmente farò altri confronti e questo è il ritorno a casa automatico dell'air 3 vediamo se atterra dal punto da cui è decollato ha acceso la luce verticale per illuminare il terreno sta facendo tutto da solo vediamo cosa succede eccolo lì ottimo direi si è fermato perché non riconosce sicuro il terreno e quindi abbasso lo stick e lo faccio atterrare manualmente e questo è il ritorno a casa del mavic 3 pro bisogna dire che con le luci di segnalazione entrambi i droni si pilotano in modo incredibile di notte addirittura il volo a vista può raggiungere anche più di un chilometro con queste luci allora vediamo mentre scende ha acceso anche lui la luce la doppia verticale perché ne ha due vediamo che leggermente sfasato rispetto al punto di decollo anche perché con il mavic 3 pro al decollo sono andato subito via non gli ho lasciato il tempo di fotografare il terreno come invece ho fatto con l'air 3 e adesso allora atterro manualmente l'ho spostato io con gli stick e sono atterrato bene a questo punto vi saluto prova riuscitissima fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e noi ci vediamo con il prossimo video su quadricottero news grazie a tutti per l'attenzione e buona continuazione